La promessa anticipazioni. Martina pensava di poter nascondere il suo segreto, sfuggire alla curiosità e ai sospetti che inevitabilmente la circondano. Ma cosa potrebbe spingerla a uscire di nascosto ogni sera, nascondendo il suo dolore agli occhi di chi le vuole bene? Curro finalmente ha scoperto la verità. Una verità che lo ha colpito come un fulmine. Martina annega la sofferenza per la perdita del padre nell'alcol, preferendo affrontare la notte da sola piuttosto che cercare il conforto degli amici. Ma Curro non è l'unico a sapere. Anche Feliciano ha scoperto il suo segreto. Le notti di Martina sono una spirale oscura dalla quale sembra impossibile uscire. E ora la tensione è alle stelle. Come reagirà Curro? E Feliciano, che ruolo avrà in tutto questo? Cosa fareste voi al loro posto? Mentre la tenuta è scossa dai segreti, Yana si ritrova a evitare con attenzione a Bel, dopo che lui le ha fatto una proposta di matrimonio inaspettata. La domanda si insinua. Qual è il vero motivo del suo rifiuto? C'è qualcosa di più profondo che Yana nasconde? O è semplicemente il timore di legarsi a qualcuno in un momento così instabile? Intanto, Maria decide di dare una mano in cucina, aiutando Valentin, che si è offerto volontario vista la mancanza di Lope. Ma riuscirà a nascondere le sue vere intenzioni, mentre il caos cresce intorno a loro? Curro, intanto, si trova di fronte a un bivio. Lorenzo gli offre l'opportunità di studiare in Inghilterra, ma qualcosa lo trattiene. Le sue radici, il legame con la tenuta e con Martina sono troppo forti per essere ignorati. Ma qual è la scelta giusta? Cosa ne pensate? Curro dovrebbe seguire il suo cuore o la sua testa? Scriveteci nei commenti, siamo curiosi di conoscere la vostra opinione. Nel frattempo, il clima nella tenuta si fa sempre più pesante. Shimena, oppressa dall'assenza di Manuel, è preda di un turbinio di emozioni. Prima si confida con Martina, rivelandole i suoi piani per un viaggio romantico in Italia. E poco dopo esplode contro la Marchesa, accusandola di aver abbandonato il matrimonio al suo destino. Ma non è solo Shimena a essere in crisi. Anche tra domestici e valletti la tensione sale. La divisione dei compiti è motivo di scontro, e la responsabilità di gestire la situazione ricade su Mauro. Riuscirà a mantenere il controllo, o vedremo esplodere un nuovo conflitto. E Catalina, decisa a tagliare i rapporti con Pelayo sia sul piano personale che commerciale, si trova di fronte a una sorpresa. La vita le offre un'altra possibilità. Ma sarà sufficiente per salvare la loro relazione? Ma le sorprese non finiscono qui. Petra, con il cuore in gola, rivela a Feliciano di essere sua madre, aggiungendo un'altra confessione che lo lascia senza parole. Il segreto che ha custodito per anni è finalmente svelato. Ha ucciso suo nonno. E mentre Feliciano si scontra con questa scioccante verità, Iana e Maria si accorgono che qualcuno è entrato di nascosto nella loro stanza. Valentin, l'intruso misterioso, ha qualcosa da nascondere. E mentre Catalina riesce a eludere l'attacco di Shimena grazie all'intervento provvidenziale di Martina, Curro e Martina si trovano di fronte a un amore travolgente che non possono più ignorare, nonostante la partenza imminente di lui. Proprio quando sembra che tutto stia per crollare, una nuova figura fa il suo ingresso alla tenuta. Il signor Cavendish. Quali sorprese porterà con sé? Troppe domande sono rimaste senza risposta. Non perdete il prossimo episodio per scoprire come andranno a finire tutte queste vicende. Il destino della tenuta è appeso a un filo. E ogni passo falso potrebbe cambiare tutto. Restate con noi e non dimenticate di farci sapere le vostre ipotesi nei commenti. Cosa accadrà?